Quanti ricordi giovanili mi si riaffacciano alla memoria sotto la lieve carezza del primo sole. Quella è un'età in cui tutto è meraviglioso, allegro, affascinante, inebriante, e come sono gradevoli i ricordi delle primavere passate. Ricordate, vecchi amici fratelli miei, quegli anni di felicità in cui la vita era gioia e gaiezza. Ricordate le giornate dei vagabondaggi attorno a Parigi, la nostra radiosa povertà, le nostre passeggiate nei boschi verdi, le brezze di aria pura nelle osterie sulle rive della Senna, le nostre avventure amorose così semplici e deliziose. Voglio raccontare una di quelle avventure. È venuta dodici anni fa e mi pare già vecchia. Così vecchia che è come se fosse venuta all'inizio della mia vita, prima della svolta, quella brutta svolta dalla quale ho improvvisamente scorto la fine del viaggio. Avevo allora venticinque anni ed ero da poco a Parigi. ero impiegato in un ministero e le domeniche mi sembravano festività meravigliose, cariche di una strabocchevole felicità, anche se non succedeva mai niente di straordinario. Oggi è domenica tutti i giorni, ma rimpiango il tempo in cui ne avevo uno solo per settimana. Quanto era bello! Avevo sei franchi da spendere. Quel mattino mi svegliai presto, con la sensazione di libertà che gli impiegati conoscono così bene, la sensazione di libertà, di riposo, di tranquillità, di indipendenza. Spalancai la finestra. Era una giornata splendida. Il cielo azzurro si stendeva sulla città pieno di sole e di rondiri. Mi vestì alla svelta e uscii. Volevo passare una giornata nei boschi, respirare l'aria pura della campagna. Perché sono di origine campagnola e sono cresciuto in mezzo all'erba e agli alberi. Parigi si destava gaiosa nel tepore e nella luce. Le facciate delle case risplendevano, i cannellini delle portinaie si sgolavano nelle gabbie. C'era per le strade un'allegria che illuminava i volti, faceva sorridere ogni cosa, come una misteriosa felicità delle creature e delle cose sotto il limpido sole nascente. Raggiunsi la senna per prendere l'irondelle che mi avrebbe portato a Saint-Claude. Quanto mi piaceva aspettare il vaporetto sulla banchina. Mi pareva di dover andare in capo al mondo. Verso paesi nuovi e meravigliosi. Dove devo comparire quel vaporetto, in fondo in fondo, sotto l'arcata del secondo ponte. Minuscolo, col suo pennacchio di fumo, poi più grosso, più grosso, sempre più grosso. Ed ecco che prendeva nella mia fantasia le dimensioni di un piroscafo. Accostava e io salivo. Era già carico di gente vestita a festa, in abiti vistosi e sgargianti, con nastri sfolgoranti e grosse faccione rubizze. Mi mettevo proprio avanti, in piedi, e guardavo fuggire via le banchine, gli alberi, le case, i ponti. Improvvisamente vedevo il grande viadotto di Point de Jour che sbarrava il fiume. Parigi finiva. Incominciava la campagna, e dietro la duplice fila di archi, la senna si allargava all'improvviso come se ne avessero ridato spazio e libertà, e diventava di colpo il bel fiume placido che scorre attraverso le pianure ai piedi delle colline boscose, tra i campi, sfiorando le foreste. Dopo essere passata tra due isole, Rirondel seguì la curva di un verde pendio punteggiato da casette bianche. Una voce annunciò «Bamidon!», un po' più oltre «Sèvre!» ed ancora più oltre «Sainte-Clau!». Scesi e percorsi velocemente la strada che attraverso la piccola cittadina conduce al bosco. Mi ero portato una carta dei dintorni di Parigi per non sbarrirmi nei sentieri che si intersecano in ogni direzione, dentro quelle piccole foreste, meta delle passeggiate dei parigini. Appena all'ombra scelsi l'itinerario, che mi parve d'altronde di un'assoluta semplicità. L'avevo a voltare a destra, poi a sinistra, poi ancora a sinistra, e sarei arrivato a Versailles a sera, per l'ora di cena. Camminai piano piano sotto le foglie nuove, bevendo quell'aria che ha il sapore e il profumo delle gemme e delle linfe. Camminavo piano piano, senza pensare più alle pratiche dell'ufficio, al capo, ai colleghi, e pensando invece alle cose felici, che certo mi sarebbero capitate, e al vago e ignoto avvenire. Mi tornavano alla mente mille ricordi di infanzia, risvegliati in me dagli aromi campestri. Camminavo impregnato, tutto avvolto dal profumo incantevole, vivo e valpitante dei boschi, nel tepore del gran sole di giugno. Ogni tanto mi sedevo per osservare, lungo la scarpata, tutte le specie dei fiorellini, di cui da tempo conoscevo i nomi. Li rivedevo ad uno ad uno, come se fossero stati gli stessi che vedevo tanto tempo prima al mio paese. Gialli, rossi, violetti, sottili, graziosi, ergentesi su lunghi steli o stescianti sulla terra. Insetti d'ogni colore e forma, tozzi, slanciati di forme straordinarie, mostri orridi e minuscoli, s'arrampicavano la fatica sui fili d'erba piegati dal loro peso. Poi dormii per qualche ora in un fossato, e mi rimisi in cammino fresco e ristorato da quel sonno. Mi apparve davanti uno splendido viale, in cui fogliame, appena un po' rado, lasciava passare sul terreno da ogni parte qualche goccia di sole che illuminava candide margherite. Il viale sembrava senza fine, deserto e calmo. Solitario, un grosso calabrone percorreva il viale ronzando e fermandosi di tanto in tanto a succhiare un fiore, che si curvava sotto di lui e distaccandosene quasi subito per andare a posarsi più lontano. Il suo corpo enorme pareva di velluto, bruno, striato di giallo, sorretto da due ali trasparenti e smisuratamente piccole. D'un tratto scorsi in fondo al viale, due persone, un uomo e una donna, che venivano verso di me. Seccato di essere disturbato nella mia tranquilla passeggiata, stavo per infilarmi nel bosco, quando mi parve che mi chiamassero. La donna, infatti, agitava l'ombrellino e l'uomo, in maniche di camicia, con la giacca sul braccio, alzava l'altro in un gesto di disperazione. Andai loro incontro. Camminavano svelti, molto accesi in volto tutti e due. Lei a passettini affrettati, lui a grosse falcate. Sulle loro facce, il malumore e la stanchezza erano evidenti. La donna mi chiese subito, «Potete dirci dove ci troviamo? Quell'imbecille di mio marito mi ha fatto perdere e pretendeva di conoscere perfettamente la zona». Disposi con sicurezza, «State andando verso St. Claude e volgete le spalle a Versailles». La donna lanciò al suo uomo un'occhiata compassionevole e irritata. «Come?» «Volgiamo le spalle a Versailles?» «Ma se è proprio lì che vogliamo andare per la cena!» «Ci sto andando anch'io, signora!» Lei ripetei per parecchie volte, alzando le spalle. «Mio Dio, mio Dio, mio Dio!» Con quel tono di supremo disgusto con cui le donne esprimono la loro esasperazione. Era giovanissima, graziosa, una bruna con una leggerissima peluria sotto il labbro. Il marito sudava e si asciugava la fronte. Di certo una coppia della piccola borghesia parigina. L'uomo pareva sfinito, spossato e infelice. Mormorò, «Tesoro, sei stata tua!» Lei non lo lasciò nemmeno finire. «Ah, io? Adesso è colpa mia!» «Chi è voluto partire senza informarsi con la scusa che sarebbe riuscito a orientarsi?» «Chi è che ha voluto svoltare a destra, su, in cima alla collinetta, dicendo che riconosceva la strada?» «Sono io che sono stata attenta a Cachù!» Non aveva ancora finito di parlare che il marito, come colto da un attacco di pazzia, lanciò un urlo penetrante, un lungo urlo selvaggio, che non si potrebbe descrivere in nessuna lingua, ma che somigliava a un «tiìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì quello di Le Havre. Dì, sono stata io? Sono io che ho scommesso che il signor Letourner abitava in rue de Martyr? Ero io che non volevo credere che Celeste era una ladra? E continuava con furia, con una sorprendente velocità di parola, accumulando le accuse più varie, più inattese, più schiaccianti, ispirate da tutte le situazioni della vita familiare, rimproverando al marito azioni, idee, atteggiamenti, propositi, tentativi, sforzi, tutta la sua vita, dal giorno del matrimonio fino a quel momento. Lui cercava di fermarla, di calmarla e balbettava. Ma tesoro, è inutile, davanti al signore, stiamo dando spettacolo, sono cose che al signore non interessano. E volgeva gli occhi imploranti verso la boscaglia, come se volesse sondarne la profondità misteriosa e tranquilla, per buttarvisi dentro, scappare, nascondersi a tutti gli sguardi. E di tanto in tanto lanciava di nuovo un grido, un ti-ti prolungato, acutissimo. Credetti che fosse una malattia, un tic nervoso. La giovane donna, rivolgendosi improvvisamente a me e cambiando tono con rapidità eccezionale, disse, se permettete, signore, potremmo fare la strada insieme per non perderci di nuovo, correndo il rischio di passare la notte nel bosco. Mi inchinai, lei mi prese sotto braccio e iniziò una chiacchierata su mille cose diverse, su se stessa, sulla vita, sulla sua famiglia e sul suo negozietto. Facevano i guantai in Roussan Lazare. Il marito camminava al nostro fianco, seguitando a lanciare occhiate da folle nel folto degli alberi e gridando di continuo quel ti-ti-ti. Alla fine domandai, ma perché gridate in quella maniera? Lui rispose con aria costernata e sgomenta, ho perduto il mio povero cane. Come? Avete perduto il cane? Sì, aveva appena un anno, non era mai uscito dalla bottega. Ho voluto portarlo a fare una passeggiata nei boschi, non aveva mai visto né erba né foglie. È diventato come matto, si è messo a correre abbaiando ed è sparito nella foresta. Bisogna dire che aveva avuto anche molta paura del treno e forse questo l'ha fatto impazzire. L'ho chiamato, l'ho chiamato, ma non si è più visto. Morirà di fame là dentro. La giovane donna, senza voltarsi verso il marito, disse, se lo avessi tenuto al guinzaglio non sarebbe successo nulla. Quando uno è cretino come te, non tiene un cane. Lui mormorò timidamente. Ma tesoro, sei tu? Lei si fermò di colpo e guardandolo negli occhi come se avesse voluto cavargli, ricominciò a buttargli in faccia un'infinità di rimproveri. Calava la sera. Il velo di nebbia che ricopre la campagna al crepuscolo si stendeva lentamente e un chiedi poetico fluttuava nell'aria, suscitato da quella singolare sensazione di freschezza che riempie i boschi all'avvicinarsi della notte. All'improvviso l'uomo si fermò, tastandosi febbrilmente il corpo. «Oh, ho paura di...» E lo guardava. «Ebbene, che c'è ora? Non mi sono accorto che tenevo la giacca sul braccio. E allora? Ho perduto i portafogli. E c'erano tutti i soldi dentro». Lei cominciò a fremere di rabbia e gridò soffocando l'indignazione. «Non ci mancava che questo, ma sei proprio un idiota. È possibile avere per marito un simile cretino. Vallo a cercare subito e fai modo di trovarlo. Io vado a Versailles col signore. Non ho proprio voglia di dover dormire nel bosco». «Sì, tesoro», rispose lui pacatamente. «E dove vi ritrovo?» Mi avevano raccomandato una trattoria e gliela indicai. Il marito tornò indietro, chino verso terra, scrutandola ansiosamente e continuando a gridare «ti-ti-ti» ad ogni passo. Tardo molto a scomparire. Sempre più fitta, l'ombra lo avvolgeva in fondo al viale. Presto la sua sagoma scomparve, ma sentimmo a lungo il suo «ti-ti-ti-ti». Lamentoso e sempre più acuto, via via che la notte si faceva più buia. Camminavo con passo allegro nell'anguola del crepuscolo, con quella donnina sconosciuta che si appoggiava al mio braccio. Cercavo inutilmente delle frasi galanti e rimanevo zitto, turbato. Sognante. All'improvviso ci trovammo su uno stradone che tagliava il viale. A destra, in una valletta, vidi una città. «Che paese era mai?» Passava un uomo. Lo chiese lui e rispose «Bugival». Rimase interdetto «Come?» «Bugival? Siete sicuro?» «Certo, sono di qui». La donnina rideva come una matta. «Le proposi di prendere una carrozza per raggiungere Versailles?» Lei rispose «No, no, mi sto divertendo troppo e poi ho troppa fame. Nel resto sono tranquilla. mio marito se la caverà, lui. Per me è tanto di guadagnato essermelo levato di torno per qualche ora». Entrammo in una trattoria in riva al fiume. Ebbe il coraggio di prendere una saletta riservata. La donna si prese una solennissima sbornia. Cantò, beve champagne, fece tante follie e anche la più grande di tutte. Quello fu il mio primo adulterio.